. Jason Momoa, prima Khal Drogo, poi Aquaman . Khal Drogo rimane uno dei personaggi più amati del Trono di Spade, interpretato da un super affascinante e muscoloso Jason Momoa. Di lui sappiamo molto, per esempio che sarà Aquaman nellomonimo film del 2018. Qualcosa ci sfugge? Ecco 5 curiosità sullattore. Jason Momoa, 5 curiosità da scoprire. . Di sicuro sono più di 5 i dettagli curiosi su James Momoa, ma cominciamo con il dire che forse non tutti conoscono i suoi legami di parentela con Lenny Kravitz. . Proprio così, lattore havaiano ha sposato l'ex moglie del noto cantante americano, Lisa Bonet, ed è diventato patrigno di Zoe Kravitz. . Non sapevate che Jason fosse un papà? Aggiungiamo una seconda curiosità, allora, visto che l'affascinante Khal Drogo, in realtà, è padre di altri due bimbi, avuti in seguito con la Bonet. . I nomi? Sono davvero particolari e, per quanto riguarda il maschietto, davvero lunghi. . Li riportiamo per dovere di cronaca, la bimba nata nel 2007 si chiama Lola Yolani Momoa, mentre il bimbo avuto subito dopo, nel 2008, si chiama Nakoa Vof Manakauapo Namakaea Momoa. . Visto che ormai ha nove anni, pensiamo che abbia imparato sia a pronunciare che a scrivere il suo nome come si deve, ma del resto ha avuto un insegnante perfetto. . 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 I dettagli curiosi sull'attore che dà vita al primo amore di Daenerys Targaryen, sapete qual è uno dei suoi sport preferiti?. Jason Momoa adora allenarsi così. . . In un video pubblicato su Instagram, Momoa fa centro, proprio come se avesse scoccato una freccia verso il bersaglio. . Peccato che, qui, si tratti appunto di Scuri, che si stia allenando a maneggiare il suo tridente in Aquaman? Può darsi, ma anche in questo caso abbiamo trovato conferma di una delle cinque curiosità già riportate, Cal Drogo forse non la beveva, ma Jason Momoa, certamente, adora la birra fresca. Poco prima di lanciare, ecco la sua ricarica speciale a base di luppolo. . Il risultato? Centro perfetto. . .